buongiorno amici oggi ci troviamo a sloz noiaus dopo due settimane di neve vento pioggia oggi usciamo da casa anche se le temperature sono basse dobbiamo togliere il naso da casa è secco il clima è secco sono le due di pomeriggio ci sono 8 gradi questo il castello questa è la principessa d'ori scusa visto che ci sono scusa 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Siamo dall'altra parte del castello. Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, è pieno di fiori. Tutto ghiacciato. Sì, lo so. C'era il ghiaccio, le lastre di ghiaccio c'erano. È normale che adesso è in queste condizioni. Ma tra un po' comunque come arriva la primavera. Prima che arrivi la primavera si mettono ai lavori e mettono i fiori. Tutti i fiori, insomma, lo curano. Sulla nostra sinistra abbiamo le scuole. La Real School. E qui da estate è solo pieno di gente. Noi sono state organizzando anche tante manifestazioni qua. Fanno le manifestazioni con gli abiti dal 7 a 100. Anche, ma non solo. Fanno un bel po' di roba, fanno un po' di tutto. Organizzano anche cose per i bimbi. C'è una varietà di cose che organizzano. Partono da aprile fino ai primi di ottobre. E poi fermano tutto perché poi arriva l'inverno e non è più fattibile. La Real School. Regiaizata come se va arrivando a bicicletta a la 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 guardate la potenza guardate la potenza è in forma del pesce sono dei simboli vedi anche questo magari qui sotto c'è il tesoro tesoro degli azzecchi non c'è a zaccar niente no non c'è a zaccar niente sono da voi ogni giorno io sono da voi ogni giorno no tutto il giorno beh dopo due mesi di gelo un po' di sole ce lo godiamo anche il cane se lo gode direi anche lei era stufa di stare chiusa fare solo dei piccoli giretti cos'è questo? non lo so andiamo lì vediamo sembra che c'è anche uno scogliattolo gigante e busta per il cane vediamo come c'è tutto vediamo quello Naturwerkstad Naturwerkstad ah sì hai ragione non lo vedevo ah sì questo d'estate è pieno di rose qui e tulipani sì ma questa scultura questa scultura strana è un misto ha scritto anche qualcosa motor motor des liben moto di vivere un modo di vivere eh sì praticamente tu cammini prima in mezzo alla sabbia poi delle pietroline piccole poi dei coci strani insomma tutto con i piedi nudi no? ma mi ha fatto un male tutti dicono ah è massaggiante a me facevano male i piedi non devo fare un mai più non ho resistito non ce l'ho fatta più nel giro io con i piedi proprio non ce la posso fare ma lì bello là ma lì bello non ce la posso fare ma lì bello ma lì bello vedete vedere come si è scelto qui sì l'ale è bello anche qui la foto diciamo che anche se la giornata non è calda si sta bene stiamo ritornando sul castello dopo aver fatto un giro nel parco 1 ora e 40 minuti di camminata quindi non sono cotta adesso vado a casa e mi fai mezzo chilo li abbiamo levati persi siamo dimagriti siamo dimagriti cosa c'è da fare pulizia puliziata che era la lavatrice si stiamare un attimino dovrebbe essere il fine settimana il giorno di riposo invece si lavora di più spesa è fatta almeno quella l'ha rimessa tutta a posto molte persone guardare su ci stanno spiando c'è una signora che ci sta guardando vediamo il primo è la peroma che ci sta guardando 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 la peroma che ci sta guardando è la peroma che ci sta guardando è la peroma che ci sta guardando